Grazie Presidente, colleghi. Allora, questa mozione che abbiamo fatto parte dal presupposto che abbiamo a livello nazionale della tutela del territorio, da tutte quelle che sono le sostanze chimiche e gli inquinanti, sia che vengano utilizzate in agricoltura che vengano usate per l'utilizzo extraagricolo. Noi qui ci siamo concentrati, come ovvio, trattandosi del Consiglio regionale toscano, sul territorio regionale toscano e in particolare sull'utilizzo extraagricolo. Mi riferisco in particolare all'utilizzo che viene fatto di sostanze chimiche nella fattispecie, per essere più precisi, glifosato, ma anche altri, per quanto riguarda il diserbo di alcune aree del territorio. Il glifosato viene utilizzato molto perché è commercialmente una molecola di basso costo e di facile utilizzo, viene commerciato in maniera ordinaria e in grandissime quantità nella regione toscana e su tutto il territorio italiano. Da parte nostra, la razza di questa mozione è di ridurne il più possibile l'utilizzo, proprio in virtù di quella difesa del territorio che in molte altre azioni questo Consiglio ha portato avanti, per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda la tutela delle acque. Bene, noi riteniamo che l'utilizzo del glifosato, ma anche di altri diserbanti, sostanze saline, per il diserbo, per quanto riguarda ad esempio i bordi delle strade, oppure di altre zone non agricole, dove è necessario procedere a una riduzione delle erbe infestanti. Anche qui il concetto di erba infestanti va rivisto, a mio avviso, in merito a quanto si possa ritenere le erbe spontanee, un fastidio per il territorio, quanto invece una risorsa. Bene, noi chiediamo con questa mozione che la Regione, nei limiti dei suoi ambiti e per le sue possibilità, riduca il più possibile l'utilizzo e proibisca l'utilizzo del glifosato per quanto riguarda per esempio gli appalti. Quando vengono fatti degli appalti, noi richiediamo ad esempio che si richieda all'interno del bando che vengano utilizzati dei metodi meccanici piuttosto che chimici, con l'utilizzo del glifosato e di altro. Quindi noi infatti riguardo a quanto presentato e mandato in commissione dal collega Donzelli, siamo sicuramente in opposizione. È necessario fare un'informazione, anzi, delle persone, degli utilizzatori per l'uso di queste sostanze. Gli enti pubblici naturalmente devono avere un'attenzione particolare perché ne fanno un uso particolarmente estensivo. Il fenomeno dei campi rossi, che attualmente non è visibile ma nella stagione estiva è particolarmente diffuso, è un fenomeno grave che è da valutarsi dal punto di vista ecologico e sanitario. L'utilizzo di queste sostanze, che spesso non è preavvisato da parte degli enti pubblici, crea anche dei gravi problemi di salute perché sono stati casi di persone che hanno subito l'inalazione di queste sostanze e sono dovute ricorrere a cure mediche. per problemi di natura, prettamente, appunto, respiratoria. Quindi noi chiediamo, con questa mozione, appunto abbiamo, e qui leggo quello che è l'impegno che noi chiediamo in particolare, che la Regione, come dicevo prima, nei suoi ambiti, sia attivi per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare l'uso di queste sostanze. Quindi glifosato ma anche altro. Quindi che garantisca che nei bandi di gara emanati dalla Regione per gli appalti pubblici riguardanti gli interventi di contenimento degli infestanti e sottolineo contenimento e non eliminazione, venga indicato come unica tipologia possibile la rimozione meccanica, che, come avete potuto vedere leggendo le considerazioni fatti preventivamente, è un utilizzo che non solo è efficace e economicamente sostenibile, ma protegge l'ambiente. E quindi è possibile. Ci sono tutti i dati ISPRA che dicono quanto sia fattibile questa possibilità. Chiediamo che si faccia impegno anche di interloquire con i responsabili del settore manutenzione, e qui riferisco alle province, quindi con la manutenzione stradale delle province, perché all'interno del territorio regionale siano utilizzate esclusivamente questo tipo di metodologie. E in aggiunta a questo chiediamo che venga fatta un'informazione puntuale con incontri, comunicazioni scritte, circolari, nei confronti dei rivenditori di tutto il territorio regionale, e qui è ben facile, è una cosa che potremmo discutere anche in Commissione, preparare dei documenti dove venga messa a conoscenza i rivenditori e che a loro volta mettano a conoscenza gli acquirenti delle sostanze, perché vengano fatte un attento lavoro di informazione riguardo ai rischi per l'ambiente e la salute umana nell'utilizzo di queste sostanze. Questo a nostro avviso copre un settore molto ampio di quello che sono le prerogative della Regione, la tutela dell'ambiente, la tutela salute e la tutela della nostra agricoltura e quindi dello sviluppo economico. Grazie. 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 Grazie.